Primo giorno di scuole chiuse ma non ne si rinuncia a vivere la normalità intanto a scegliere. Esattamente un anno fa il mondo della scuola cambiò, rinnovò il proprio metodo di insegnamento. Per la prima volta alunni, docenti e anche genitori conobbero la didattica a distanza, ovvero la parola dad, entrata ormai nel linguaggio comune. Il 5 marzo del 2020 i sindaci iniziarono a scrivere sui social tramite comunicati stampa che le scuole resteranno chiuse fino al 15 marzo, poi lo slittamento ad aprile, poi la chiusura definitiva fino al termine dell'anno scolastico. Gli stessi esami di Stato cambiarono radicalmente. Si rientrò a scuola a settembre senza certezze su quello che sarebbe accaduto. Aperture a singhiozzo per via dei positivi tra docenti e alunni riscontrati in classe, genitori preoccupati, gruppi di mamme che chiedevano la ripresa delle lezioni frontali, altre che invece troppo preoccupate preferivano continuare con la dad. Un anno fa la scuola cambiò radicalmente il proprio metodo di lavorare. Si iniziarono a sfruttare le nuove tecnologie. I docenti dovettero cominciare a capire come interfacciarsi con i propri alunni attraverso un monitor, come richiamare la loro attenzione, soprattutto quella dei più piccoli. Oggi, come allora, poco è cambiato. Continua l'incertezza sulla chiusura delle scuole in alcuni comuni tornati in zona rossa, sempre poi la mascherina, entrata di prepotenza nel corredo scolastico, la privazione degli abbracci, delle strette di mano, dei giochi, del contatto fisico. Questa è la scuola dopo un anno di Covid. Io ricordo un anno fa che fu un giorno particolarissimo, perché abbiamo avuto una serie di riunioni per tutta la giornata con i docenti, ma abbiamo garantito, e di questo ne sono veramente onorato e felice, abbiamo garantito fin dall'indomani, dal 6 marzo, l'inizio dell'attività della didattica a distanza. Ora, sicuramente è stato un anno molto difficile per noi, per i docenti, per gli alunni, perché è venuta a mancare quella che è una delle caratteristiche della scuola, ovvero sia la socializzazione tra i ragazzi, tra i docenti, e questo penso che è la cosa più pesante che va sottolineata. Per quanto riguarda la didattica, certamente la DAD, che ormai si chiama DDI, non è il massimo, però io posso dire che, almeno nella nostra scuola, non ci sono stati particolari problemi e quasi il 100% dei ragazzi, una percentuale molto minima, ha avuto delle difficoltà a seguire le lezioni. Cioè la scuola non si è resa, la scuola è andata avanti mettendo in pratica tutte le risorse necessarie, risorse sia economiche, sia professionali, sia umane, che sono state messe in pratica non soltanto a livello personale e individuale, ma a livello comunitario, intanto in una dimensione orizzontale. Cioè mi risulta, e ho constatato con mano, come tutti i docenti fra di loro, supportati dall'animatore digitale, dal referente per la tecnologia, dagli assistenti tecnici, veramente hanno, e si è intessuta una rete di comunicazione delle competenze davvero straordinaria, vorrei dire insospettabile. Cioè io non mi aspettavo questa comunicazione, questa osmosi di competenze che si è riversata nella scuola pur di affrontare l'urgenza. Il cambiamento nei giovani c'è stato. E c'è stato, e noi ce ne rendiamo conto giornalmente, ecco, e credo che la delicatezza di questo problema non ci può far raggiungere delle soluzioni immediate. Sono delle soluzioni che vanno perseguite gradualmente, veramente con tanta pazienza, con tanta professionalità e tanta competenza.